Come ti immagini uno sport di base tra vent'anni, visto le tante idee che stanno uscendo oggi? Io sono convinta che questa generazione non solo abbia tante idee, ma soprattutto abbia la passione e la voglia di fare e di concretizzarle. Il problema è che abbiamo un sistema arrugginito, io mi auguro che da qui a vent'anni questo sistema si sia un po' anche sciolto, tra virgolette, che tutto possa essere un po' più semplice. Per non sbagliare, Versace e Giussi, cosa farà tra vent'anni nel mondo dello sport? Io stento cosa farò la settimana prossima, quindi tra vent'anni non te lo so proprio dire. Ti vedrai come aiuto e supporto il mondo dei giovani nello sport? Io sto provando a modo mio di dare il mio contributo, continuo a correre, ho fondato una onlus, aiuto la promozione, sono amica del CSI, quando ci sono comunque avvenimenti sportivi io non manco mai, organizzo io stessa eventi sportivi per promuovere i veri valori dello sport, sono ambasciatrice di questo progetto internazionale, si chiama Save the Dream, e quindi insomma io mi auguro lì dove c'è la possibilità, se il mio contributo può servire, perché no? Ringraziamo Giussi. Ringraziamo Giussi.